Questo è Dick. Un marito adorabile. Sei sicuro che sia una buona idea? Così impara a sprecare un po' meno fiato. Con una promettente carriera. I capi vogliono vederla di sopra. Che piano? Il venti? Non sarà il cinquantunesimo! Congratulazioni, Mr. Harper! Ma quando ormai pensava di scalare il successo? I believe I can fly I believe I can touch the sky La sua società? Che sta succedendo? Ehi, c'è un incendio! È stata una fortuna che ci fosse lei a coprirmi le spalle. Lo ha tradito. Ha fatto fallire la società e se l'è squagliata con 400 milioni di dollari. I risparmi, la pensione, abbiamo perso tutto. Mi sa che siamo un tantino nella merda di... Si sono ripresi il nostro prato. Non sapevo neanche che potessero farlo. Abbiamo seguito le regole e ci hanno fregato. Prendiamo un caffè già che siamo qui. Ma sì, un bel cappuccino freddo. Forza a muoversi, due cappuccini freddi! In corso! Oh, cavolo! Tutto bene, tesoro? Sì, benissimo. Ok, che nessuno ci insegua perché siamo criminali disperati pronti a tutto! Questi sono ipocolorici? Sono maffini ipocolorici? Sì, credo di sì! Ehi, tesoro, ne dovresti prendere qualcuno. Adesso usano tutta la loro astuzia... Per dare ai capi corrotti. Vuoi rapinare Jack McAllister? Una lezione. Lo dobbiamo incastrare. Se ne deve andare. Jim Carrey, Té a Leoni. Questo posto è fantastico. Qual è il vostro segreto? Dick & Jane, operazione furto. Dovremmo abbassare la corrente di quel collardo. Ma che sarà mai?